...mi amministratire da domani, nel soli interesse dei cittadini romani, torinesi, insomma, mentre loro parlavano di Olimpia e di interessi di qualche palazzinaro che qui si è sentito padrone e non è padrone... Tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa, tutti a casa... ...i problemi dei cittadini, delle periferie, di asilio nido, del decoro urbano, della cultura. Sono tre anni che non molliamo mai, che senza una sede, senza un euro di contributo pubblico, candidando solo incensurati, rifiutando tutti i privilegi e stando in piazza tutti i giorni e tutti i fine settimana... ...sì, grande diva! Abbiamo fatto capire alla maggior parte degli italiani che prima di credere ad un articolo devono verificare chi c'è nel consiglio d'amministrazione del giornale che pubblica quella nera. Questa città è stata in mano a pochi riporti, a Icaltacirone di turno, a De Benedetti e Repubblica. Basta! Questa città appartiene ai Romani e soltanto ai Romani!